Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Otto Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Sì, beh, è una cosa da ricordare, internet, perché visto che sempre più internet e anche le trasmissioni vanno, sono disponibili e di conseguenza vi ricordiamo di fare delle ricerca sui motori di ricerca per l'organismo, stragonaria, politeismo e ci trovate sicuramente. Io non so esattamente come sono le notizie in questo preciso istante, però i nostri amici hanno messo a disposizione il server per mandare questa trasmissione e quella delle 19 e 20 in diretta su internet, per cui 32 persone si possono collegare su internet in tempo reale e ascoltare in diretta questa trasmissione, quella fra le 19 e le 20. E ringraziamo naturalmente questi amici che stanno facendo questo sforzo, vedremo un attimino anche di ampliare quella che è la gamma. Francesco, vai pronta la radio, sta già funzionando su internet. Esatto, sì, dobbiamo usare un secondo computer per caricare le trasmissioni, però appunto abbiamo già predisposto il caricamento anche delle trasmissioni per noi se le voglia scaricare normalmente e non ascoltarle su internet. Stiamo anche lavorando per mettere le trasmissioni disponibili in DVD, di conseguenza ci sarà soltanto uno o due DVD per anno, senza esempio, a parte il lavoro gigantesco, mostruoso, incredibile e titanico, di cui dovremmo sempre essere grati e ringraziare Franco Di Giesolo per il lavoro incredibile che è riuscito a fare perché veramente... Cioè ci ha fatto un monumento, diciamocelo chiaro. Esatto. Però per tanti le nostre trasmissioni fatte qui a Radio Vama 5 sono riproducibili e risentibili per almeno 80 anni. Merita un monumento anche lui perché effettivamente per il lavoro che ha fatto non sarà mai ringraziato abbastanza ed è giusto che anche noi glielo riconosciamo pubblicamente da questa radio perché gli siamo debitori in maniera enorme e sarà ben difficile che si riesca a ripagarle un lavoro che ha fatto del genere. Grazie a lui appunto tutte le trasmissioni, che sono otto anni, pensate quanto ha lavorato dietro per riversare da nastro a CD audio, sta adesso lavorando con l'MP3 ha fatto un lavoro gigantesco, ci ha dato la base tecnica per poter passare in DVD e qui se ne occuperanno altri e di conseguenza pensate che da un CD, una trasmissione, si potrà arrivare tranquillamente, adesso le prove saranno presto finite, ad avere al massimo due DVD per anno. Di conseguenza uno si può fare una biblioteca enorme, se qualche trasmissione qualcuno se le è persa se le potrà riascoltare comodamente tenendo conto che appunto con i tempi più veloci riusciremo a caricare le trasmissioni da internet, uno se le potrà anche scaricare. Anche la proposta che ci è stata fatta dagli amici qui della radio di fare due ore e mezza di trasmissione tutte attaccate, anche per questi motivi, fra gli altri oltretutto questioni di lavoro, ma anche perché la disponibilità delle persone è proprio quella di riuscire a mandare in diretta una trasmissione sicuramente l'altra si vedrà, cioè vedranno loro cosa possono fare e non è possibile accettarla. Purtroppo anche per noi è un peso rimanere qui in radio dalle 3 alle 20, chiaramente dalle 15 alle 20, però è un sacrificio che facciamo volentieri perché sappiamo che queste cose stanno funzionando, cioè la trasmissione spezzata in questo modo sta funzionando e sta effettivamente avendo un suo senso. Anche se all'inizio, quando sei anni fa il Presidente ce lo propose, eravamo anche noi un po' scettici nello spezzamento dei due tempi, in realtà abbiamo visto che proprio questo spezzamento in due tempi ci dà sia l'opportunità di cambiare il registro della trasmissione e sia nello stesso tempo di permettere alle persone di avere i registratori in automatico, cioè di poter registrare un automatico anche se sono al lavoro o se sono impegnati in maniera diversa e garantire contemporaneamente le fasce d'ascolto delle persone che sono legate alla trasmissione. In realtà in questi sei anni si è costruito una situazione tale per cui le persone si possono organizzare, cioè la continuità nel tempo delle trasmissioni consente per esempio ai nostri amici di mandare in diretta in internet Radio Gamma 5. È eccezionale, ma se voi pensate che... Francesco se vuoi aggiungere qualcosa... No, io voglio aggiungere una cosa anche perché ti tenendo conto che questa trasmissione non è un giorno né un mese ma sono otto anni. Ed è anche giusto ribadirlo, cioè io a memoria posso ricordare soltanto due occasioni, cioè due giovedì qui noi non abbiamo trasmesso in assoluto in otto anni. Di conseguenza è quando qualcuno di noi non è potuto intervenire, cioè nel senso o io o Claudio siamo sempre presenti, nel senso che non c'è stata mai la necessità da parte di nessuno di istituirceli e di conseguenza questo va anche considerato. Tenendo conto che dopo noi non siamo una trasmissione musicale, siamo una trasmissione di parlato, parlato puro e di conseguenza quello che portiamo, rientriamo anche nello spirito della radio che è quello di fare informazione, cultura, notizie, commenti. E di conseguenza se è una trasmissione musicale è facilmente collocabile. Ma dopo dopo otto anni esiste anche una continuità, un'abitudine perché logicamente otto anni nelle persone che possono anche essere saltuari nell'ascolto sanno la sicurezza, la continuità, la memoria che questa trasmissione c'è. E di conseguenza si è creato tutta una fascia di persone che sono abituate a questa trasmissione. Giustamente Claudio solleva anche un problema tecnico. In commercio per chi registra ancora col nastro più di due ore non riesce a registrare. Di conseguenza chi si programma il registratore che parta a una certa ora, trasmettendo dalle ore 15 alle ore 16 e 30... 90 minuti, 60 minuti di solito sui nastri. Sì, riescono appunto a registrarle e i fasci diversi sono più difficili. Perciò è importante anche perché nel momento in cui, questa è una radio volontaria, però riesce ad essere, chiamiamola così, elevata in quanto garantisce una trasmissione di continuo, senza interruzioni e soprattutto di parlato perché sarebbe facile, non è per denigrare le altre trasmissioni, però sarebbe facile che noi venissimo qui e facessimo musica. Con la risorsa chiesa di internet e anche di musica pagana potremmo fare altri otto anni di trasmissione musicale pagana. Però noi non siamo una trasmissione culturale o solo culturale, noi siamo una trasmissione religiosa e le trasmissioni religiose si comunicano tramite appunto il parlato, tramite la continuità, tramite la precisione. Se noi non è che veniamo qui ad elencare un autore, pensate che anche dal punto di vista musicale elencare un autore è una cosa che potrebbe fare in breve tempo, ma noi stiamo recuperando migliaia, secoli, di cultura, di storia dell'uomo, di civiltà, di notizie, di informazioni, ma poi appunto il termine religioso, visto in una ottica contemporanea, può sembrare buttivo. In realtà noi che ci richiamiamo al paganesimo diamo una visione anche culturale che viene più approfondita, in quanto non abbiamo una religione che separa da tutte quante le influenze della società, da tutte le manifestazioni, perché noi sappiamo che il paganesimo a cui ci rifacciamo il politeismo, essendo molteplici, può agganciare ogni manifestazione della vita e di conseguenza poi dovendo recuperare le radici dell'uomo, dell'umanità, della civiltà, della cultura, dei popoli, abbiamo un patrimonio enorme da esporre e da fare riemergere. Tenendo conto che noi siamo anche legati all'attualità, perché io vorrei ricordare che ad esempio campagne di informazione e di mantenimento dei diritti civili, e parliamo dell'aborto, dello scandalo della fecondazione assistita, ben poche persone a livello politico non se ne stanno occupando in Italia. Noi come pagani che abbiamo un sentimento, un riferimento alle persone, agli uomini, alle comunità, lo stiamo facendo. Ma vorrei ricordare un'altra cosa, e anche i recenti scanner, proprio di questa settimana, della pedofilia religiosa cristiana, dei sacerdoti, nel senso che chi è stato in Italia che ha mantenuto per tutti questi anni l'allarme, che ha testimoniato, ha provato le informazioni. Quando nei paesi, parlo degli Stati Uniti, era sulle prime pagine. In Italia è sempre stato molto limitato, molto contenuto e silenziato. Comunque, tanto per dare anche un'idea di quello che stiamo facendo, perché a un certo punto non è che diciamo tutto quello che succede, però qualche volta sai, la tentazione di gloriarci ci viene. Noi, come sapete, il 31 gennaio, qualche giorno fa, abbiamo tenuto il settimo dibattito qui a Radio Gamma 5 sul crogiolo dello stregone. Il settimo dibattito che trattava di ascoltare il mondo attorno a noi. Parte le persone che sono venute, parte tutto quanto, però è venuta da Roma una ragazza che sta preparando una tesi, sta facendo un'indagine a livello nazionale su che cos'è il paganesimo e non solo ha filmato, diciamo così, tutto quanto il dibattito, ha seguito, ha registrato, gli abbiamo concesso sia materiali sia informazioni proprio per il suo lavoro, che comunque avrà un proseguo, cioè questo lavoro avrà un peso anche di informazione. Però la cosa che mi ha colpito è che quando dopo siamo andati in pizzeria, questa ragazza che è laureata in filosofia oltre tutto e sta facendo una tesi per un'altra specializzazione, ci ha messo quasi 45 minuti a riuscire a comprendere quali sono i fondamenti del paganesimo su cui stiamo lavorando. Dopo 45 minuti si è illuminata, cioè capendo il nocciolo fondamentale è riuscita a capire anche perché facciamo tutti quei discorsi. Cioè io mi chiedo se questa ragazza è laureata in filosofia, per cui con una base culturale, diciamo così, abbastanza... Sì, rendendo conto che la ragazza è del giornalismo, poi tra l'altro... Esatto, e che lavora anche attraverso delle inchieste, ci mette 45 minuti per riuscire a capire il fondamento, riuscire a capire poi tutto il resto. Io mi chiedo, i nostri radioascoltatori sono dei geni, perché quelli che ci hanno seguito ci hanno seguito fin da subito, ci hanno compreso in essi abbastanza presto, insomma. E comunque no, si è verificato questo, cioè questa persona è venuta appositamente da Roma, diciamo così, per fare un servizio su quello che stiamo facendo. Sembra che altre persone si stiano muovendo addirittura dall'estero, però insomma andiamoci un po' piano, perché finché non vediamo le cose nero su bianco in realtà non possiamo garantire. Però sta di fatto che Radio Gamma 5 effettivamente sta assumendo attraverso le trasmissioni di magia, stragonaria e paganesimo una dimensione che è di importanza nazionale, perché il discorso sul paganesimo a livello nazionale, chi lo sta portando avanti? Siamo noi. Cioè, tanti si spacciano per essere pagani, per essere questo, per essere quello, ma in realtà alla prova dei fatti, come questa ragazza sta facendo l'inchiesta, ha dimostrato parlato, siamo solo noi che lo stiamo portando avanti e alimentando. E con molto corpo, cioè con molta passione, tutto sommato, perché non abbiamo scritto soltanto centinaia e centinaia di pagine e tenuto centinaia di trasmissioni, ma abbiamo anche sviluppato tutto quello che era possibile fare, perché più di così fisicamente non è possibile. Sì, beh, tenendo conto che appunto otto anni di trasmissione, di parlato, sono una montagna in cui noi, cose che abbiamo scoperto, perché logicamente noi non siamo arrivati qui come dei profeti, ma siamo persone che in questi otto anni hanno scelto, hanno trovato, hanno incontrato, hanno scoperto. E queste scoperte che noi abbiamo fatto, che hanno maggiormente radicato o maggiormente fatto comprendere a noi stessi la fondamentale importanza del paganesimo nella vita, sono servite anche a noi, cioè nel senso che anche noi ci ha permesso di continuare delle ricerche, anche perché il paganesimo è dinamico, non è statico. Ma soprattutto quello che Claudio giustamente ha sottolineato, che questa è la persona che sta facendo un'inchiesta sul paganesimo in Italia, parlando anche di realtà che, tra l'altro io conosco che personalmente, che si dichiarano pagane, in realtà lei ha detto ma hanno avuto un problema, sono stati reticenti, hanno fatto difficoltà, sono limitati del privato. Voi siete state le persone che con maggiore trasparenza, senza problemi, senza pregiudizi, senza prevenzione, mi avete accettato, avete discusso, non avete nascosto niente, se ho chiesto qualcosa che avevate me l'avete fornito delle informazioni. E invece ne noto che quei gruppi che si dichiarano vicini al paganesimo, che si dichiarano affascinati o che cercano di dare una dimensione, riferito anche ad esempio a certi culti, ad esempio della Roma Antica, in realtà questo non lo fanno. Lei stessa si meravigliava di questo, perché diceva come è possibile che in Italia, se voi fate quello che fate e ne siete presenti pubblicamente da molti anni, lo sostenete su internet, tramite i volantini, conferenze, trasmissioni radio, vuol dire che esiste uno spazio in cui qualsiasi gruppo che abbia il coraggio delle proprie idee, che la scelta che fa non sia una scelta culturale ma una scelta religiosa, può manifestarsi. Perché gli altri gruppi non hanno la stessa disponibilità, non è un problema nostro, perché noi siamo quelli disponibili, è un problema degli altri. Ma io voglio dare anche una dimostrazione di questo, cioè nel senso di dire che Claudio molte volte dice che siamo noi che facciamo il paganesimo, ma in realtà è vero, perché più passa il tempo e più queste cose emergono, cioè nel senso noi non abbiamo mai avuto problemi già da otto anni fa a dire noi siamo pagani, noi affermiamo che siamo una visione religiosa e non culturale, benissimo, siamo una visione appunto religiosa e non culturale e quando ci sono delle iniziative che possono sembrare assonanti a noi, noi non siamo ben contenti. Ecco, io do, tanto per dare una dimostrazione, si è creata a Padova un'associazione che si chiama Sol Invictus, sarebbe il Sol Invictus, sarebbe la festa del solito d'inverno, sarebbe appunto il sole che è sempre vincente sull'oscurità. Questa è un'associazione che ha delle finalità puramente culturali, eppure ha invitato persone che si richiamano a una tradizione di Roma molto importante come Renato Del Ponte. Io sono andato alle loro conferenze e ho detto mi piacerebbe, visto che voi dichiarate di rappresentare questa dimensione culturale e religiosa, che fosse approfondita. Mi arriva il ciclo delle conferenze che sono interessanti dal punto di vista culturale, però per me non hanno quella profondità che dovrebbe avere la religione. E tanto per dare una dimensione di questo, loro si vanno a centrare su tematiche puramente culturali. Ma io mi chiedo, ma perché è impossibile fare questo? Perché la cosa fondamentale che abbiamo sempre detto è che il plagiarismo viene fatto dalle persone, viene fatto dagli individui, viene fatto dalla capacità di ogni singolo individuo di rendersi conto di essere un dio. Cioè nel senso che le persone non devono associatarsi a mode, a culture, a informazioni, a modelli, ma devono riscoprire la propria dimensione interiore. Devono dimostrare la propria capacità, il proprio eroismo. E limitarsi a un'attività puramente culturale, va bene, è proficcio dal punto di vista culturale, però se noi sappiamo, e questo lo sappiamo purtroppo in Occidente da oltre 2000 anni, che la religione è un campo di battaglia, bisogna affrontarla nel campo di battaglia. Perciò alla fine dobbiamo ammetterlo che chi ha il coraggio, chi ha la possibilità, chi ha l'intenzione, chi ha la volontà di essere pagano e di testimoniare il paganesimo e di essere pagani nella propria vita siamo solo noi. Questo in un certo senso dispiace, perché sappiamo che il paganesimo è fatto dalle persone, dagli individui, è fatto dalle comunità. Benissimo, noi speriamo che strada facendo, e questo è in positivo, esista un esempio nell'ambito della vicca, realtà che ci sono molto vicine, che hanno un spirito religioso, benissimo, vengono ad emergere, proprio perché, vogliamo ricordarlo, il paganesimo per noi è una visione religiosa e da questo non si può tralasciare, non si può scappare, cioè il paganesimo ha una funzione radicalmente antagonista e contrapposta al monoteismo. Francesco, sì, in effetti siamo esattamente l'opposto di quello che è il monoteismo in generale e spesso le persone non riescono anche a capire un'altra cosa del nostro tipo di atteggiamento, cioè la forza con cui rappresentiamo il nostro pensiero, le nostre emozioni e le nostre idee. persone sono più abituate a un modo razionale di pensare, a un modo pacato di esporre le proprie idee, non sono abituate a esporre le proprie idee in maniera passionale, in maniera profonda. Io ho trovato un articolo che forse lo userò magari questa sera, in cui le ultime ricerche danno l'esistenza di tre tipologie, diciamo così a grandi linee di intelligenza. Sarebbe l'intelligenza razionale, cioè quella posata, quella che va a ragionare, c'è l'intelligenza emotiva e c'è un'intelligenza istintuale. Cioè in pratica dentro di noi ci sono vari tipi di intelligenza che l'uomo usa a seconda dei propri modi di essere. Ma se noi facciamo religione è proprio perché sentiamo le emozioni del mondo, proprio perché le viviamo, viviamo le passioni del mondo. Se noi non facessimo questo non faremmo religione, faremmo un altro tipo di cultura. Per cui chi ha problemi con il nostro linguaggio, con le nostre passioni, chi ha paura che noi siamo troppo duri, certe cose, in realtà questo è l'unico modo per fare religione. Perché l'uomo deve rappresentarsi con le proprie passioni esposte, con i propri desideri, con la propria visione del mondo. Se non si espone un uomo, lo so che esporsi le proprie emozioni è un modo di esporre a livello intimo, talmente tale che ci si trova col culo scoperto che magari chissà gli altri dopo come ti fregano. Certo, gli altri ti fregano, cioè o meno ci proveranno a fregarti e a umiliarti, cioè a usare anche le tue passioni scoperte, le tue emozioni per umiliarti, per sfregiarti, per farti male. Però questo è l'unico modo per costruire una religione pagana o una religione che abbia dei sentimenti dell'uomo rispetto alla vita. Per cui il nostro linguaggio è assolutamente preciso e corretto rispetto agli intenti che noi stiamo andando a praticare. Questo volevo sottolineare, Francesco. Sì, beh, infatti il punto è poi anche perché noi diciamo sempre che le cose devono avere un nome ben preciso, devono essere di maniera definita e corretta, precisate, chiarite e informate. Di conseguenza è inutile che noi nascondiamo le parole perché è necessaria la chiarezza nei significati, nei contenuti. Di conseguenza è di fronte anche la realtà che noi abbiamo attorno e da cui non possiamo assolutamente prescindere, ma che dobbiamo considerare. Io ricordavo all'inizio che noi, sono otto anni, che parliamo della pedofilia monoteistica e proprio in questi giorni hanno avuto due arresti di sacerdoti che nell'attività degli oratori... in Italia è mica sottostante. Sì, ma poi con situazioni veramente allarmanti, preoccupanti e di un'enorme gravità. Eppure ricordate che appunto noi tutte queste informazioni le abbiamo raccolte, ne abbiamo parlato, le abbiamo elencate, le abbiamo fatte conoscere, le abbiamo fatte circolare. Eppure di fronte a decine e decine di casi in Italia di preti pedofili, si preferisce occultare questa realtà, a nascondere e proporre altre cose. Dobbiamo dire una cosa. In realtà le forze dell'ordine e della magistratura nell'ambito delle leggi e delle possibilità, laddove sono informati, tentano di lavorare. Perché non è che la polizia non faccia niente, i carabinieri non facciano niente, la magistratura non faccia niente. Certo, noi vorremmo che facessero di più, indubbiamente. Noi vorremmo che facessero di più. Ma quello che vogliamo noi è quello che vogliamo noi, chiaramente. Per cui non è che ciò non avvenga. In realtà è più che altro giornalisti oppure informatori pubblici che hanno una specie di timore nel manifestare queste notizie e andare a chiedersi perché queste cose succedono. E questa è una questione di ordine educazionale. Perché se le persone si chiedono una notizia perché è, perché è successo, andiamo a capire quali sono i meccanismi che porta a questo, chiaramente le cose comincerebbero a cambiare, comincerebbero a cambiare in maniera maggiore. Francesco accennava prima la pedofilia e ne possiamo già parlare, possiamo già cominciare con la signastampa, Francesco. No, come vuoi. E andiamo verso le 16 a parlare del commento all'innoamerico a Demetria. Come preferisci? Tanto vale cominciare immediatamente con le notizie che sono arrivate. Io comincerei dalla notizia che è la più eclatante di questa settimana che è venuta venerdì praticamente. Ringrazio chi ha mandato in internet che mi ha fatto vedere perché io effettivamente non avevo fatto la signastampa perché dovevo preparare il dibattito. Questi dibattiti in realtà che stiamo facendo portano via molto tempo di preparazione perché serve questo. Niente, vado Francesco con la notizia. La pedofilia dice due casi di pedofilia, due arre di violenza sessuale in Piemonte, ad Alessandria e in un paesino del Torinese. Due sacerdoti piemontesi sono finiti in carcere nel giro di 48 ore per violenza sessuale su minori. Il primo è padre Domenico Marcanti, 48 anni di Alessandria, che al doposcuola dell'Istituto Don Orione svolge l'attività di animatore. Lo accusano 5 ragazzini di 12 anni. Attenzione però, non sono solo i ragazzini. Stavolta la polizia ha filmato i filmati delle telecamere che i poliziotti hanno installato nell'oratorio. Per cui non è che la polizia non faccia le indagini. Chiaramente lo fa all'interno delle leggi e all'interno delle informazioni specifiche che la polizia riceve. E' stato inchiodato appunto da queste immagini. Il secondo è Don Roberto Volterra, 30 anni, parroco di un paese di 2000 abitanti, Castagnole e Piemonte, e vicario episcopale in quella zona nella provincia di Torino. Questo è ancora più squallido dell'altro, dove in mezzo ad un'immensa pianura ci sono fabbriche della Ex Indesit, ora Fiat Ricambi. A denunciarlo è stata una ragazzina di 13 anni che da un anno subiva le molestie. Attenzione, l'adolescente è figlia di una parrocchiana che proprio a Don Roberto in confessionale aveva confidato di essere stata violentata in gioventù dal maestro elementare. Per questo prete ha ricevuto la confessione di questa parrocchiana e gli ha restituito la pariglia molestando e praticamente facendo violenza alla sua figlia. Andate voi a confessarvi dal prete e a raccontarvi la vostra storia e poi vedete che cazzo vi succede. Tutti i due preti sono stati chiaramente arrestati e quello che ha violentato la ragazzina, questo Roberto Volaterra, siccome ha confessato e adesso è stato messo agli arresti domiciliari, ci penserà la magistratura adesso per questo. Naturalmente la legge è quello che è e naturalmente bisogna rispettare la legge. Questo è il resoconto. Vi ricordo che queste notizie sono del 30 gennaio 2004. 30 gennaio 2004. Rifletteteci un attimino. Francesco, questo articolo dice qualcosa ma non dice molte cose che poi sono sapute ieri. Martedì 3 febbraio, scusate, l'altro giorno. Allora, il Corriere della Sera dedica all'argomento un articolo che è interessante riportando anche alcune frasi fra virgolette di questo sacerdote. E ad esempio, la cosa più interessante è questa che non è soltanto il singolo ma esiste anche appunto la complicità di chi opera all'interno della parrocchia. Nonostante che lui abbia dichiarato sia dichiarato responsabile che dice molesti sulla bambina sono impazzito per amore, chiuse virgolette. Ma ci sono i parrocchiani che lo difendono che sostengono che è un bravo sacerdote. Ricordiamo che questo è un sacerdote che ha 36 anni non è un vecchio sacerdote. di conseguenza formato sull'insegnamento della migliore chiesa dal Vaticano secondo in poi. Cioè nel senso che ci vengono a raccontare che la chiesa sia riformata, che la chiesa è diventata più umana in realtà la chiesa è sempre stata per il greggio. Però c'è una frase che mi lascia da pensare che dice che è impazzito per amore aperte virgolette cucciolotta mia ti voglio tanto bene ora sei diventata una donna ti devo spiegare cosa succederà al tuo corpo chiuse virgolette. Questa è una delle fasi del parroco. Cioè penso che uno che abbia la passione non si vada ad arrogare anche nell'intimità nel rapporto con la pretesa di essere superiore che lui può spiegare tutto che la spiegazione ha tutto. Uno che ha passione ha soltanto passione. Ma poi lui dichiara stesso dice per me è diventata un'ossessione e va bene è diventata un'ossessione per quale motivo? Viviamo in una società che non è certa. La Cassazione ha dichiarato che non esiste malattia nello stupro dei bambini esiste solo il reato. Per cui non è questione è un'ossessione o non è un'ossessione. È una persona che può essere indubbiamente malata ma è un reato appunto e basta. Vai Francesco, scusa. Sì, non ho nessun problema. Tenete conto che appunto questa è una cosa la conoscenza di questo parroco questa ragazza risale a settembre del 2000 ma è una cosa che dichiara aperte virgolette dice il parroco non dobbiamo più vedersi deve farmi un esame di coscienza chiuse virgolette cioè della persona che può aver subito un trauma una violenza non importa niente la sua coscienza verso Dio deve subire un esame la responsabilità che ha avuto lui si sente grato di abbandonare dice l'indagine delle telefonate di questo parroco dice il suo è un concentrato di volgarità e insulti riferito alle telefonate che questo parroco ha fatto alla bambina questa è una frase che riporta il Corriere della Sera non la riportiamo noi benissimo una frase che viene riportata fra virgolette di questo parroco dice aperte virgolette domani non devi andare a scuola ti porterò una lettera e una scatola di preservativi sei una puttana chiuse virgolette cioè questa è una non la sono inventata è il Corriere della Sera di martedì 3 febbraio benissimo e quando appunto noi dicevamo che gli oratori sono pericolosi cosa dichiara uno di questi collaboratori questa violenza aperte virgolette dovete scusarci io e Don Roberto abbiamo esagerato con le spinelli chiuse virgolette cioè che si spacci negli oratori finanziati dallo Stato con una recente legge del Parlamento questo si è sempre saputo cioè che l'oratorio sia un centro di spaccio di droga questo si è sempre saputo naturalmente è difficile probabilmente per la polizia riuscire a trovare i momenti dello spaccio i momenti del consumo e il tempo per andare a fare questo tipo di indagini perché in realtà si consuma fra discoteche e altre cose c'è un consumo sul territorio piuttosto vasto con giri di miliardi però quando parliamo di discoteche quando parliamo di centri in cui avviene lo spaccio fra i centri in cui avviene lo spaccio dobbiamo infilargli gli oratori chiaro questo sì ecco una cosa dice qua allora per quanto si riguarda appunto l'arresto lui il prete ha confessato ma ci sono due riguardi del Corriere della Sera di martedì 3 febbraio 2004 perché ricordiamo appunto io non ho visto altri quotidiani che ne hanno parlato e dice appunto che il collaboratore rispinse le accuse e dice appunto è un presunto colpevole secondo il Corriere della Sera e dice il giovane educatore parrocchiare accusato di aver preso parte le telefonate in due casi di aver palpeggiato pure lui la ragazzina rimane agli arresti domiciliari e dice sempre il Corriere della Sera ieri qualcuno alla vista del prete ha urlato pedofilo vattene una voce stridente in mezzo a tante altre che sino a domenica davanti alla chiesa l'hanno difeso dichiarava la gente del paese sono tutte calunnie Don Robi si è sempre comportato bene chiusi virgolette per cui guardatevi dei preti che si comportano bene a questo punto cioè tenete i vostri figli distanti dai preti che si comportano bene perché a quel punto effettivamente significa che esiste un sistema una strategia che viene insegnata all'interno dei seminari su come stuprare i bambini perché se noi abbiamo tutta una serie di dichiarazioni in varie situazioni in cui i preti vengono scoperti a fare questo tipo quello in Francia ultimamente questo ha 36 anni ricordiamo di conseguenza è fresco di seminario se molti preti si comportano bene e dopo stuprano bambini significa che esiste una vera e propria strategia di ammagliazione delle persone cioè di circuizione di quella che è l'attenzione delle persone per dopo stuprare bambini cioè a questo punto è facile pensare che esista effettivamente nei seminari siccome nei seminari non leggono la Bibbia leggono piuttosto le interpretazioni che si dà della Bibbia si insegni proprio questo tipo di tecniche io ci non so comincio a sospettare un po' perché sono troppi casi anche negli Stati Uniti in America Latina di preti che si comportano bene e vengono beccati a stuprare i bambini e sono moltissimi cioè noi ormai ne abbiamo un elenco Francesco ormai infinito purtroppo noi raccogliamo ormai notizie cioè io questa qua la vede Francesco è piuttosto ordinata la mia raccolta e sono dal 94 che raccolgo notizie via via sempre più in maniera più precisa più mirata però dal 94 non so neanche più dove mettere i miei contenitori però non è la cosa da ieri sì no infatti io tra l'altro ho utilizzato delle notizie appunto riportate da un quotidiano come il Corriere della Sera nel senso che queste sono notizie che noi non ci siamo inventati non abbiamo neanche esagerato perché addirittura io ho citato le fra virgolette ma ci sono due frasi che io leggerei assieme che sono attribuite appunto a questo prete fra virgolette dice fa ti devo spiegare cosa succederà al tuo corpo cioè nel senso io posso capire che possa esistere la passione che poi i preti sono capaci di passare questo lo dubito sono pastori e amano soltanto il dominio sul greco però il fatto appunto è che non c'è la passione non c'è il trasporto non c'è lo sconvolgimento dei sensi no c'è la possibilità di dire io sono superiore a te e ti insegno a questo e poi subito dopo quando appunto questa ragazza che è in difesa e che di conseguenza subisce anche l'autorità del parroco del prete dice il parroco dice e lo riporta con le fra virgolette sei una puttana colpevolizzazione colpevolizzazione della vittima di conseguenza non c'è neanche l'amore si può dire per quella ragazza non c'è neanche il trasporto no assolutamente è un oggetto a cui lui può spiegare deve spiegare al potere e all'autorità di farlo questo ricordate gli deriva perché lui è un amante un seguace della predicazione di un certo Gesù Cristo che è stato il primo modello di pedofilia che i cristiani hanno avuto e che tutti quanti questi parroci che praticano queste cose che portano avanti la pedofilia ricordiamoli sempre che lo fanno per amore di Cristo perché in fondo perché hanno questo disprezzo per la psiche per l'età per la sessualità di questi ragazzi di questi ragazzi perché l'unico amore è finalizzato all'amore di Cristo e vediamo cosa comporta l'amore di Cristo che comporta la distruzione la cancellazione l'alientamento psichico di queste persone perché logicamente poi abbiamo anche un paese che difende il suo buon pastore è allucinante questo dimostra ancora di più come la gente sia stata circuita ingannata truffata incapace di vedere il proprio futuro ma questo l'abbiamo già visto in molti casi Francesco di violenza su ragazzine o su minori in certi paesi dove addirittura il paese si schierava con gli stupratori cioè quasi fosse un loro diritto una bravata una figata stuprare delle bambine cioè effettivamente l'abbiamo assistito un sacco di volte questo tipo di atteggiamento ed è un atteggiamento imposto dal condizionamento educazionale cattolico l'orrore del cattolicesimo che ti impedisce proprio di guardare il tempo che viene incontro cioè un pagano non potrebbe mai fare una cosa del genere perché un pagano la prima cosa a cui è attento è la costruzione del futuro del suo futuro personale come persona e del futuro del sistema sociale in cui vive cioè la ricchezza e il benessere del sistema sociale per cui se un pagano facesse una cosa del genere ci prenderebbe immediatamente a calci diciamoci lo chiave è effettivamente un atto di violenza rispetto alla costruzione del futuro questo non significa che non esista non esiste dei sintomi di amore per i bambini ma i sintomi di amore per i bambini te li tieni non ti puoi permettere di rovinare la vita a una persona in giovane età perché tu hai buoressi o tu hai qualcosa per la testa te li tieni e cerchi di comportarti da persona matura da persona adulta una persona consapevole dei propri atti e dei propri gesti e lavori insomma per riuscire a cambiare quello che è la relazione delle cose non è ammissibile questi tipi di atteggiamenti assolutamente sì ma questi atteggiamenti sono uno dei problemi atteggiamenti che non sono del singolo sono sempre dettati della comunità religiosa a cui si rifanno dal modello di Cristo come pedofilo e poi non pensate che queste cose non siano conosciute perché mi è capitato fra le mani ho avuto un libretto abbastanza strano è un libretto che risale nel 1961 ed è uscito in una collana che si chiama la collana si chiama problemi religiosi moderni pubblicato nel 1961 si chiama psicanalisi e confessione bene io ho avuto possibilità di scorrere rapidamente però c'è una frase che dice qual è lo scopo loro dice pazienza della verità di essere assunta e redenta dal cristianesimo per servire umilmente e positivmente alla costruzione del regno di Dio sulla terra cioè l'imposizione classica servire umilmente e positivamente alla costruzione del regno di Dio sulla terra cioè non che nella terra in cui vivono gli uomini gli uomini hanno il diritto di cercare di vivere no qualcuno che sono loro che detengono la verità e presumono di avere la verità devo costruire il regno di un altrove su questa terra e tenendo a conto che allora di conseguenza la psicanalisi veniva studiata dal punto di vista religioso su questo libro del 61 certi principi certi meccanismi certi schemi certi complessi certe manie nessuna coscienza e se questo non l'hanno fatto dal 61 in poi e questa non è una testimonianza della cosa che in quel senso anche nella confessione veniva usata la psicanalisi siamo nel 1961 non siamo neanche dopo il 68 che uno può dire no c'è stato uno sconvolgimento sociale culturale che ha siamo nel 1961 se già nel 61 qualcuno all'interno del cristianesimo si occupava della psicanalisi significa che tutto quanto il tempo d'accordo di poter affrontare le cose e voglio ricordare una cosa questo libro è uscito nel 1961 d'accordo è uscito 43 anni fa e il prete pedofilo di Torino ha 36 anni il che se una struttura culturale avesse avuto i mezzi che preveva le informazioni se può fare un libro sulla psicanalisi conosce certi meccanismi questo prete pedofilo di Torino che ha 36 anni non era ancora nato di conseguenza quando è andato in seminario se avessero voluto avrebbero potuto creare delle condizioni culturali ben diverse non hanno potuto farlo non potevano farlo perché il loro modello di divinità è un Gesù Cristo pedofilo e di conseguenza chi imita Cristo fa queste cose ci sono alcune informazioni che io però non ho sotto mano ma che ritengo abbastanza credibili di un'infanzia infelice di uno di questi preti pedofili io sono convinto di questo cioè indubbiamente questo può essere successo perché distruggere l'infanzia di un bambino significa preparare il distruttore dell'infanzia da adulto pertanto chi ha distrutto l'infanzia di questa persona o gli ha costruito una pessima infanzia ha delle responsabilità e delle corresponsabilità nei suoi atti sia chiaro questo perché è vero che si colpevolizza la persona che commette questo tipo di infamie però il vero responsabile non è solo la persona ma è anche lì chi ha costruito le condizioni affinché questa persona facesse questo pertanto quelle notizie sono sono accettabili però oltre a questo oltre a queste infamie vorrei anche citare un trafiletto della Repubblica del giorno 3 febbraio 2004 dove morte all'asilo due agli arresti il titolare di un asilo e una maestra sono stati messi ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di abbandono di minore il 4 novembre una piccola di 6 mesi era morta al Dindondero la struttura privata che dirigevano l'autopsia parlava di morte bianca ma magistrati e carabinieri hanno voluto approfondire l'indagine scoprendo che in più occasioni i bambini venivano messi a dormire in una soffitta senza riscaldamento elettricità e con le finestre oscurate per cui ricordate anche questo tipo di atteggiamento che questa che questa struttura questo asilo nido privato manteneva nei confronti dei bambini è proprio l'atteggiamento che ne hanno i cattolici cioè i bambini come oggetti di possesso che vengono allevati chiusi in una stalla non ha importanza la stalla però è chiusi in una stalla e là nella stalla devono vivere cioè questo tipo questa morte di questa bambina in questo istituto privato è sempre imputabile è sempre da imputarsi all'attività coercitiva educazionale del cristianesimo che considera le persone degli oggetti Francesco sono tanto cioè sono 5 centimetri per 3 la notizia cioè non so se io sono costretto ad andare alla ricerca dei trafiletti per sapere che cazzo succede in questo paese non so se mi spiego i preti pedofili hanno avuto un po' più spazio per fortuna sì no ma infatti poi che qualcosa si percepisca viene anche fuori cioè logicamente io prendo un esempio di come sia anche difficile dire che il monoteismo è la causa di molte cose e proprio nella stessa pagina in cui si parlava del prete pedofilo appunto di Torino c'era un articolo del filosofo Emanuele Severino che parlava di un fatto di cronaca che sarebbe anche interessante affrontare che però non so se c'era tempo dice ma se ha deciso così è perché come tutti coloro che si uccidono senti un certo modo cioè secondo una certa cultura che come ogni altra proviene più o meno direttamente da scrittura da libri anche non letti questo è un messaggio sibillino per dire che chi si uccide in generale in questa cultura nel nostro ambiente è messo più esteso più lato diviene perché una certa cultura che viene dai libri anche non letti e qual è il libro che più è la Bibbia diciamocelo chiaro se sono vecchi o il nuovo testamento sì un filosofo non lo può dire però logicamente come vedete anche chi comincia ad andare verso i problemi dice esiste un modello culturale che nelle persone che anche si uccidono è il monoteismo che anche se non viene letta la Bibbia in realtà influenza e va a sconvolgere l'esistenza di molti ecco perciò come vedete anche in ambito filosofoico si cerca di far emergere qual è la zavorra il male il peso che la nostra cultura si porta la nostra città si porta noi diciamo che ogni ambito lavora a modo suo comunque esistono sia filosofi sia in ambito culturale tutta una serie di espressioni che però non vengono calate alle persone io ho seguito alcuni dibatti di fatti all'università in cui si sanno perfettamente queste cose queste cose sono cose normali si sa che il cristianesimo produce questo orrore ed è la base di un tentativo vero e proprio di distruzione sociale perché quando io leggo un vuotila che ti dice senza figli non c'è futuro appello al papa contro l'aborto chiaramente è un attentato morale vero e proprio al sistema sociale in cui viviamo hanno distrutto il Brasile proprio con questo sistema il Brasile adesso non so se abbia 100-130 milioni di abitanti contro i 20-25 che aveva e c'è una miseria che è più nera e stanno saccheggiando la foresta amazonica per riuscire a sopravvivere e altereranno l'equilibrio sul pianeta e diminuirà l'ossigeno e e e e e così via cioè Voitile in realtà è un delinquente chiaramente la magistratura non lo perseguiterà certo per questo però la morale delle persone ci deve riflettere cioè le persone ci devono assolutamente riflettere su certe su certe battute io ho un altro articoletto Francesco sempre del della Repubblica del 22 gennaio 2004 il comitato di bioetica è contrario a sperimentare un metodo soft ma un metodo soft per cosa? perché qualcuno si è inventato un metodo più dolce per fare l'infibulazione cioè anziché fare un'infibulazione distruttiva delle delle labbra delle donne cioè le labbra della vagina delle donne fanno un'infibulazione più più soft in modo che non sia dolorosa e in modo che non sia distruttiva ma la cosa fa schifo lo stesso cioè una persona non si può permettere di meno male una persona e giustamente il comitato di bioetica dice che l'infibulazione è sempre una barbarie ma noi siamo perfettamente d'accordo questo come è una barbarie il battesimo come è una barbarie la circoncisione cioè sono sempre delle barbarie perché vanno a marchiare a fuoco gli individui sia nel fisico sia nella psiche che poi non è che cambia assolutamente niente cioè il battesimo l'infibulazione la circoncisione sono sempre dei marchi che le persone ricevono e ha ragione il comitato di bioetica e un po' alla volta vedrete che arriverà fuori anche la discussione per eliminare il battesimo insomma ma infatti un'altra cosa che ci ricordiamo che ad esempio il discorso della della cellule staminali della ricerca sulle cellule staminali i cattolici i monoteisti i cristiani hanno fatto di tutto per impedire la ricerca hanno fatto di tutto per togliere alle donne il diritto dell'aborto però fanno di tutto anche perché le persone soffrono e ad esempio noi ci vengono sempre prospettate situazioni eroiche in cui i missionari vanno allegri ad annientare cultura e civiltà ai paesi in cui si presentano parci i preti in televisione a parlare che non si deve fare la sperimentazione è benissimo sulla cronaca di Milano è uscita una notizia tecnica rivoluzionaria politecnico per curare otto bambini distrofici cellule staminali il padre medico sperimenta la cura sul figlio cioè questo che è un medico che ha la possibilità di ricercare naturalmente convinto della bontà di questo che pur di far togliere la sofferenza del proprio figlio un figlio che ha 15 anni che dall'età di 4 anni è inchiodato sulla sedia a rotelle e che non ha nessuna speranza lui non si è rassegnato alla fede non ha accettato la furia del monoteismo che comincia a sperimentare e di conseguenza pensate al coraggio di questo padre che di fronte alla sofferenza del figlio si impegna in questo non è stato lì a pregare e chiedere il miracolo però lui non pretende di imporre agli altri le cure dice il mio figlio e voglio che mio figlio sia felice eppure si fa una legge in cui si vieta a questo padre di sperimentare sul suo figlio una speranza che lo possa far vivere in nome di cosa? in nome del messaggio cristiano in nome della predicazione di Cristo e dopo si fa un vero e proprio attentato di sciacallaggio rispetto a una persona che ha deciso di non tagliarsi una gamma sono affari suoi cioè effettivamente è stata una campagna di sciacallaggio rispetto a questa donna che ha preso una decisione una decisione che è sua le appartiene perché la vita è sua e gli appartiene non appartiene a nessun stronzo e porco Dio che vuole mettere in ginocchio le persone appartiene solo a lei e lei ha il diritto di scegliere come vivere e come tagliarsi e come non tagliarsi è stata veramente una campagna infame quella che è stata fatta con questa donna Francesco sì ma difatti giustamente su questa cosa che ad esempio anche se Emanuele Severino se ne è annunciato ha detto che è una violenza questa di voler far vivere a ogni costo e chi non vuole più saperne che in fondo ha lo stesso volto e lo stesso cuore della violenza esercita quando si uccide cioè nel senso che da torne quando si uccide è il monoteismo che ha insegnato sempre che le persone sono crese poi ecco voglio agganciarmi a tutte queste cose c'è una notizia di fronte a questo catalogo di mostruosità successo non in secoli ma in pochi giorni perché neanche una settimana abbiamo avuto appunto tutta una serie di dimostrazioni di quanto sia sconvolgente nella psiche nella cultura delle persone il monoteismo e allora cosa è successo a Tiene paese dell'Alto Vicentino perché non conosce il Vicentino c'era una messa che veniva trasmessa in diretta dalla RAI e non si sa chi pagasse la diretta della RAI e due persone che appartengono a un comitato di liberazione delle cure cardinale hanno lanciato dei volantini attaccati a dei cusci d'uovo verso l'altare niente di pericoloso perché i volantini protestavano contro la presenza massicce in ogni campo della violenza monoteistica eppure uno di loro è stato arrestato questa notizia che dimostra il come certe persone che sono maggiormente sensibili che hanno più sentore verso quello che è di veramente allarmante pericoloso perché ne abbiamo dato una catalogazione i carabinieri l'hanno arrestato quando ci sono in giro preti pedofili che vanno a prendersela dov'è che li ha lanciati ha lanciato durante una messa perché come era in ripresa televisiva era in diretta in diretta RAI hanno lanciato due volantini accattorciati con dentro dei cusci d'uovo uno è riuscito a scappare l'altro l'hanno arrestato c'è c'è un reato d'arresto perché è in flagranza cioè non è che abbiano fatto delle cose fuori testa però diciamo che dal nostro punto di vista sono cose più accettabili perché è una denuncia che loro hanno fatto in modo reclatante però c'è sì ma sono d'accordo con te però rendi conto che non c'è da meravigliarsi se delle persone cominciano a leggere tipo l'articolo che abbiamo detto alle Corriere della Sera della violenza su una bambina se poi vanno a fare così poco perché in sostanza sì hanno fatto una denuncia in realtà era un modo per denunciare una situazione cioè al fine non hanno fatto danni a nessuno sì 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 ma sono denunciato una situazione sì poi erano solo due cuscì d'uovo con dentro dei volantini e l'hanno fatto comunque però questa notizia che poteva sembrare scandalosa che sicuramente aveva spazio a me non risulta che oltre il quotidiano locale il giornale di Vicenza ne si sia da parlare tutti quanti sono attenziti cioè si dà più spazio a cavolate proprio perché questo qui è un indice è un indice di protesta che sta emergendo nel paese che esiste della gente che veramente si comincia a ribellare perché pensate io ho fatto l'esempio e lo voglio leggere appunto in paragone quel padre che ha un figlio che dall'età di 4 anni adesso ne ha 15 è inchiodato in una sede a rotelle e che qualcuno gli vuole impedire la sperimentazione con celle staminare per salvare il suo figlio cioè rendetevi conto della sofferenza se qualcuno percepisce la sofferenza così provate a pensare chi ad esempio ne ha un animo più sensibile è il minimo che vada in una chiesa a lanciare due volantini con dentro dei gusci solo perché la diretta televisiva è stato arrestato sì sì ma ti dico il discorso del arresto è corretto anche perché non è che stia in galera lo hanno fermato poi lo hanno rilasciato cioè comunque avrà in ogni caso qualcosa perché è un il disturbo di una manifestazione religiosa cioè c'è come come principio di reato però chiaramente paga quello che paga in ogni caso è chiaro che la forza che lo ha mosso per fare questa cosa non era una forza che andava a fare dei danni a delle persone era chiaramente una rabbia di protesta rispetto a una situazione è una cosa ancora accettabile insomma dal punto di vista sociale se avessi stato peggio se avessi fatto dei danneggiamenti ecco ma è giusto protestare e qualche volta anche per le proteste si pagano dei prezzi chiaramente onore naturalmente a questa persona a nostro punto di vista però le cose sono queste insomma va bene Francesco andiamo un attimo con Lino a Demetra andiamo avanti con Lino Omerico a Demetra un piccolo pezzo un piccolo pezzo Grazie.